ciao a tutti e bentornati alla seottimana la rubrica dove parlo dei contenuti seo più interessanti degli ultimi sette giorni questa settimana mi occuperò unicamente di un articolo che non è tecnico ma è molto molto pratico perché parla di una questione che tocca potenzialmente il nostro portafoglio il nostro futuro e in generale la nostra vita di viandanti del web l'articolo in questione scritto dal giornalista e professore francese fédère fillou si chiama the media industry and the make google pay fantasy fillou parte spiegandoci di come google si stia stancando della continua avidità e mancanza di cooperazione che il mondo dell'editoria ha riservato negli ultimi anni nei confronti dell'azienda americana la quale sarebbe indecisa se di fatto chiudere i proverbiali rubinetti ci parla di come la montante ingordigia degli editori storici che sono arrivati con le classiche azioni di lobbying a far approvare dal parlamento europeo il disgustoso articolo 13 e l'articolo 11 dei quali parleremo tra poco sia probabilmente sul punto di fargli sperimentare il classico sorprendente e doloroso ritorno di fiamma come in modo arguto sottolinea amount of view ci si sta probabilmente chiedendo se sia il caso di continuare ad appoggiare un'industria che continua a trattare google semplicemente come un bancomat senza neanche tentare lontanamente di evolversi adattarsi ed abbracciare i mezzi che gli mette a disposizione personalmente ricordo di come qualche anno fa google decise di togliere i giornali spagnoli dal carosello di google news dopo che gli editori fecero approvare una legge per la quale sarebbero dovuti venire pagati anche solo per le anteprime negli slip verigeni intendiamoci google pur non essendo un concentrato di insantità rimane un'azienda conscia del fatto che per prosperare non può guadagnare senza condividere il raccolto e da sempre che che se ne dica ridistribuito la ricchezza che ha saputo generare collaborando con i creator ovvero chiunque abbia prodotto anche solo una pagina sul web collaborando di fatto con l'azienda con chi certamente ha voluto capire e assecondare la loro tecnologia rendendo scansionabile e indicizzabile il proprio contenuto e cercando di renderlo appetibile come risposta ad una query naturalmente secondo le regole di google stessa ripeto pur avendo commesso errori più o meno gravi nella sua ormai lunga storia come leader nel settore search non si può certo dire che google non abbia dato grandi possibilità praticamente a chiunque senza questa azienda per fare qualche esempio non esisterebbe aranzulla non esisterebbe trovaprezzi ma non esisterebbe neanche il piccolo sito affiliate che ti fa fare la vacanza in più ogni anno che ti fa comprare il giochino della playstation e che ti fa fare dei regali un pochino più belli a natale beh perlomeno non esisterebbero in questa forma non sarebbe possibile praticamente chiunque tentare di guadagnare tramite traffico referral dal motore di ricerca io stesso non potrei avere clienti che hanno fatturato migliaia di euro ogni mese parlando di fatto di quello che amavano senza dover convincere un umano capriccioso a pubblicare ad esempio un libro una facoltà incredibile e diciamocelo un terreno dove vince chi fa e non chi ha amici più potenti è una cosa meritocratica a prescindere dal fatto che ci siano diciamo delle controversie ma che sono settorializzate e che non vanno intaccare il senso generale della cosa ovvero che ci sono delle regole chi le sa seguire chi in un certo senso le sa piegare chi gioca meglio al gioco vince non esisterebbero neanche ragazzi e ragazze intraprendenti che registrando video sugli argomenti più disparati possano sia arricchirsi ma soprattutto dare lavoro in certi casi a decine di persone grazie a una piattaforma quale youtube in questo momento messa davanti a scelte anche molto drastiche per il già citato articolo 13 questa simpatica simpaticissima trovata del parlamento europeo votata a strasburgo con 438 voti a favore 226 contro e 39 astensioni cioè con una grande preoccupante maggioranza dice in buona sostanza che la responsabilità per un'eventuale infrazione di copyright per chi pubblica contenuti su internet sia di chi ospita il contenuto e non di chi lo carica sulla piattaforma di turno in poche parole se io pubblico un video su youtube dove spiego come suonare tengo una minchia tante di frank zappa e faccio sentire parti della canzone il povero frank si rivolta nella tomba sapendo che col video è di fatto illegale e rende youtube un servizio rivoluzionario che ha cambiato la società e impoverito le media company e uno dei problemi è proprio questo colpevole di infrazione del copyright e per un paladino della libertà a tutti i costi come zappa direi che sarebbe un brutto colpo in passato come ci ricorda l'articolo youtube dopo una battaglia legale con viacom implementò una tecnologia piuttosto efficace il content id si tratta di un sistema utilizzato anche oggi dalla piattaforma in grado di riconoscere algoritmicamente l'upload di materiali coperto da copyright magari è capitato anche a te di pubblicare un video con una canzone di sottofondo o come nel mio caso con uno spezzone tratto dal cartone animato pingu che ha fatto fraggare il mio video ha fatto inserire forzatamente dell'advertising che ha portato penso uno o due centesimi al legittimo proprietario del copyright ma diciamo che questa cosa ci può anche stare con questa nuova trovata europea però non basterebbe come dice l'amministratrice di youtube susan vocischi è fisicamente impossibile anche con una tecnologia così rifinita imporre queste leggi sul copyright per le oltre 400 ore di video che vengono caricate sulla piattaforma ogni singolo minuto 576 mila ore di contenuti ogni giorno da controllare chi ha fatto questa porcheria è fuori dal mondo o più semplicemente in mala fede non solo youtube ma soundcloud spreaker github stack overflow wikipedia tripadvisor yelp facebook twitter e anche youporn e qui capite la gravità della situazione sarebbero costretti a misure drastiche come ha paventato youtube attraverso i suoi creator più popolari che ha utilizzato diciamo come portavoce per questa faccenda una delle concrete possibilità è l'oscuramento della intera piattaforma in europa cioè youtube dall'europa non si vedrebbe più certo un grande colpo per i venditori di vpn ma l'utente medio semplicemente resterà a bocca asciutta e creators nostrani disoccupati insieme ai loro team al loro staff e alle loro redazioni come scrivi in una lettera aperta della quale vi darò il link nella descrizione il padre del world wide web tim berners lee insieme a figure del calibro di vint surf uno degli inventori del protocollo tcp ip e jimmy wales uno dei fondatori della wikimedia foundation insomma non dei caciottari l'articolo 13 sarebbe un passo senza precedenti nella trasformazione di internet da una piattaforma aperta di condivisione innovazione ad uno strumento di sorveglianza automatizzata e controllo dei suoi utenti parole molto pesanti i problemi veri come si legge in questa lettera verranno per i più piccoli perché le grandi aziende sono più capaci almeno economicamente di assorbire il colpo il costo per implementare tecnologie e processi in grado di rendere conformi a queste regole le piccole piattaforme sarebbero proibitivi e i sistemi automatici di controllo del copyright per quanto già ragguardevolmente sofisticati non sono in grado di garantire l'affidabilità necessaria per scongiurare la possibilità di incorrere in pesanti multe e azioni legali come dice la lettera se queste regole fossero esistite agli albori di internet la rete non sarebbe quella che conosciamo oggi e quella che nel bene o nel male amo da 22 anni quello che viene richiesto è di fatto un sistema automatico di censura implementato su ogni piattaforma che gestisce user generated content una cosa gravissima è qualcosa di francamente per me inaccettabile l'articolo 11 chiamato anche link tax è invece simile a quello che ha portato google news a fuggire dal mercato spagnolo gli editori dovrebbero venire remunerati anche per il più piccolo frammento di notizia preso da uno dei loro siti web in poche parole google dovrebbe pagare i giornali online per pubblicare gli snippet delle news sulle serp ci sono però alcuni fraintendimenti che l'articolo evidenzia in modo molto chiaro il primo è che la larga parte del traffico a queste testate online arriva proprio da google e con quello i loro lettori e i loro proventi mentre il traffico referral dai social cala picco il traffico della search cresce e questo l'abbiamo visto in una ricerca di search metric che vi ho presentato in una vecchia newsletter questo anche grazie a implementazioni quali il carosello di notizie di chrome su android del quale parlai penso sempre nella stessa newsletter il secondo è che i giornali online attualmente pagano degli operatori seo per migliorare le loro performance come fa notare fin lui questo significa che c'è stata a monto una considerazione dei costi e dei benefici e che questo traffico porta già proventi non c'è nessuna rapina in atto il terzo che furono proprio i publisher alla caccia del traffico a tutti i costi come dice giustamente l'articolo ad aprire le porte agli aggregatori attraverso l'implementazione e l'utilizzo dei mitici rss feed questo ha generato una vera e propria industria dove hanno prosperato ad esempio le app mobile aggregatrici di notizie quale feedly e soci dei quali gli editori non hanno saputo sfruttare che in minima parte il potenziale applicato al loro business inoltre esiste già una quantità di letteratura e legislatura sul copyright che di fatto protegge già oggi i detentori del diritto d'autore su questo però mi fido dell'autore dell'articolo perché non sono un avvocato comunque sia in poche parole il succo del discorso è che secondo alcuni potenti personaggi google deve pagare questo perché google secondo gli editori farebbe soldi alle loro spalle il problema è che come la spagna insegna google non si piegherà non ha interesse nel creare un precedente che possa diciamo far venire strane idee anche al resto del mondo non ha interesse a fomentare idee anacronistiche di chi di fatto non riesce non vuole adattarsi come inevitabilmente qualsiasi cosa succeda ve lo assicuro faranno aziende reattive quali google alcuni editori tedeschi lo hanno già sperimentato quando il parlamento della germania qualche anno fa ha approvato una legge simile che forzava google a pagare per gli snippet l'azienda americana ha chiuso i rubinetti togliendo traffico agli editori tedeschi non ci è voluto molto perché gli stessi publisher andassero a offrire gratuitamente i propri contenuti a google per tornare a ricevere traffico e quindi tornare ad incassare non è infine neanche chiaro chi dovrebbe essere il beneficiario di questa link tax ad esempio con quale criterio andrebbe selezionato se l'europa forzerà la mano penso che succederà quello che paventa a fillù google semplicemente chiuderà google news e smetterà di mandare traffico a siti che trattano news in europa e la situazione sarebbe subito molto chiara ai nostri amici editori illusi di strizzare un gigante parastatale che di fatto non ha bisogno strettamente di loro in questi termini e non mi convince neanche il discorso che sento fare da alcuni riguarda fantomatici furti di contenuto se non si vuole i propri articoli su google basta mettere il magico metatagno index per evitare che questi vengano utilizzati sulle serp molto facile no ma google diciamoci la verità fa comodo la vera questione è che un'industria incapace di evolversi cerca scorciatoie per uscire da un impasse che dura da anni non solo cercando di forzare google a pagare attraverso la politica ma anche con pratiche disdicevole disgustose quale la pubblicazione di fake news o l'abbassamento ignobile della qualità di ciò che viene pubblicato e tutto questo per cercare di fare più page view e quindi più soldi e qui sì che google ha una colpa lo sdoganamento del cancro di internet rappresentato dalla pubblicità display dal revenue legato a doppio triplo filo dai volumi di traffico è in parte colpa sua e dei suoi circuiti pubblicitari quello di cui parlo è un circolo vizioso che va a distruggere la cultura e la società per arricchire una ristretta cerchia di persone una cosa inaccettabile l'articolo 13 e l'articolo 11 o per meglio dire l'atteggiamento dei media nei confronti di internet e delle sue creature è qualcosa che ci tocca da vicino non solo come abitanti e lavoratori del web ma come esseri umani personalmente non so come si possano cambiare concretamente le cose ma discutere e riflettere sulla questione penso sia importante e per questo ho voluto dedicare il video di questa settimana all'argomento se davvero la politica ci rappresenta spero che sia l'emanazione di persone che sanno che internet è una risorsa per l'umanità e va tutelata avrei altri articoli un paio di miei progetti molto importanti da annunciarti ma vorrei per questa settimana che ti concentrassi su quanto detto ti informassi più approfonditamente discutessi della questione con me e con la tua rete di conoscenti dalla mamma alla zia alla sorella al papà al cugino e non intendo insomma solo i web amici ma soprattutto chi internet lo vive semplicemente come fruitore più o meno inconsapevole è davvero molto importante detto questo noi ci sentiamo la prossima settimana ciao a tutti ciao a tutti